Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La seconda, ma Gersonet Saint-Jean la conosco bene, ci siamo anche visti quest'estate e mi auguro ci continueremo a vedere. La seconda è che è stato borsista dell'Alexander Wohumbo-Stiftun, cosa alla quale ho apprezzato moltissimo anch'io borsista, solo che lui se ho capito bene a Bonn e io a Francoforte. Edeberg, qui vedo Bonn, perché era la Stiftun di Bonn, perché è la sede di Bonn. Bellissima città, la conosco abbastanza bene, ma Francoforte è molto più brutta, devo dire, sotto molti aspetti. E la terza, forse molto più pertinente, è perché ho visto il suo nome, in qualche modo me lo ricordavo, perché quando ero molto molto giovane ero un appassionato lettore di Cassirer. E mi risulta che, e mi ricordo anche che Massimo Ferrari è uno studioso di Cassirer, non so se è ancora ora, no, sì, no, va bene. Comunque, diciamo di sì. Diciamo di sì, va bene. Grazie di essere venuto e di aver accettato questo invito e ti do la parola. Grazie, grazie molto per questa presentazione, mi ha fatto molto piacere, naturalmente mi fa anche molto piacere poter parlare in questa sede, in un'occasione dedicata al Centro di Studi Metodologici di Torino. E non per l'armonia prestabilita, ma per una circostanza tuttavia forse non del tutto casuale, anch'io partirò dal punto dal quale è partito questa mattina Diego Marconi. E in effetti, ripercorrendo il volume degli atti della presidenza del Centro di Studi Metodologici di Torino, si incontra a un certo punto la relazione che Nicola Bagnano tenne in una delle riunioni di studio dell'anno accademico 1957-1958. Una relazione piuttosto ampia e puntigliosamente documentata che Bagnano dedicò al concetto di esperienza. Una parte del testo prende in considerazione Mach, il Circolo di Vienna, il Tractatus di Wittgenstein, il Carnap di Testability and Meaning e anche, seppure brevemente, la Logie der Forschung di Popper. Ma a Bagnano non si ferma qui e si riferisce pure a un momento cruciale della storia della filosofia analitica della seconda metà del Novecento, vale a dire al celebre articolo di Quine sui due dogmi dell'empirismo. Di Quine si è detto di passata, nel 1957, la rivista di filosofia aveva pubblicato in traduzione italiana il saggio Carnap e la verità logica. L'esposizione di Bagnano, in occasione dell'incontro del Centro di Studi Metodologici, è molto chiara e sottolinea, peraltro, l'influenza dell'olismo di Pierre Duhem sulla posizione di Quine. Per giungere, infine, alla conclusione che la critica dell'impirismo tradizionale, ivi compreso quello di Carnap, impone, cito, l'esigenza di passare da una teoria enoseologica dell'esperienza a una teoria metodologica di essa. Non è questa la sede, anche se sarebbe interessante farlo, per entrare nel merito della discussione che seguì alla relazione di Bagnano. In specie per quanto riguarda l'intervento di Jean Monat, che, riletto oggi, sembra quasi sprovveduto, al punto che lo stesso Bagnano si vide costretto a fargli notare la differenza che corre tra l'analisi come metodo di distinzione concettuale e l'analisi intesa, invece, come la intendeva Quine, nel senso della analiticità e dei criteri che la definiscono o dovrebbero definirla. Si può, invece, partire dal testo di Bagnano per cercare di guardare in una direzione più ampia, al di là di quanto si è detto, sia da parte dei protagonisti di allora, sia da parte degli studiosi della filosofia e della cultura italiana del secondo dopoguerra, sulle esperienze intellettuali come quella del Centro di Studi Metodologici Torinese. Certo, è stato un periodo, almeno sino alla fine degli anni Cinquanta, in cui era avvertita l'esigenza di aprirsi a nuove frontiere, di aggiornarsi, di sprovincializzarsi, come si diceva allora. E in questo recupero del tempo perduto, il dialogo con la filosofia della scienza e la filosofia scientifica sviluppatasi tra Europa e Stati Uniti, nel periodo compreso tra le due guerre, ebbe sicuramente, e anche giustamente, un ruolo di primissimo piano. Fu, e lo si è detto più volte, essenzialmente un effervescente momento di importazione, meritorio per aver infranto le dogane erette dalle filosofie idealistiche e spiritualistiche imperanti in Italia nella prima metà del secolo. Ma fu anche, e nemmeno questa è una novità per dire il vero, uno scambio ineguale fra una influente comunità scientifica internazionale consolidata da tempo e un lavoro molto artigianale condotto a Torino, a Milano o in alcune delle sedi universitari in cui fiorì la stagione del neoilluminismo con strumenti del mestiere ancora da affinare, talvolta condizionati da un'attrezzatura concettuale che veniva da orizzonti ben diversi da quelli del circolo di Vienna o della philosophy of science statunitense. Ed è proprio su questo punto, in effetti, che può essere utile richiamare l'attenzione cercando di cogliere alcuni aspetti della filosofia della scienza, così come essa stava istituzionalizzandosi nel corso degli anni 50, soprattutto nell'ambiente di lingua inglese tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Senza dimenticare ovviamente che alle spalle di quest'ambiente vi era l'imponente flusso dell'emigrazione dei gruppi intellettuali legati all'imperismo logico viennese, alla società filosofica per la scienza o per la filosofia scientifica di Berlino e poi ad alcuni centri culturali dei paesi danubiani. La domanda da porsi in via preliminare potrebbe suonare così. Cosa accadeva al di fuori del contesto italiano negli anni in cui il Centro di Studi Metodologici di Torino promuoveva discussioni come quella che si è appena ricordata a proposito di Abagnano? Il saggio di Quine del 1951, chiamato in caso da Abagnano, è certamente una pietra a miliare. Ma proviamo a guardare anche ad altre date e ad altri testi che si susseguono nel corso degli anni 50. Nel 1952, come settimo quaderno del secondo volume dell'Enciclopedia della Scienza Unificata, Karl Hempel pubblica uno dei testi classici della cosiddetta liberalizzazione dell'imperismo logico, la formazione dei concetti nella scienza empirica. L'anno successivo, Stephen Tolman, dalle stampe dei Philosophy of Science, An Introduction, che è all'origine di quella nuova filosofia della scienza post-neopositivistica che diventerà nel volgere di qualche anno un tema sempre più scottante. Tra la prima e la seconda metà degli anni 50, Karl Popper, che dal 1946 insegnava alla London School of Economics, scrive alcuni dei saggi e delle conferenze più importanti che raccoglierà nel 1963 in congetture e confutazioni. Nel 1959 usciva la traduzione inglese della Logique d'Erforschung con il titolo, si può discutere se sia appropriato o meno, The Logic of Scientific Discovery, e, come tutti sanno, Popper riteneva, con malcelato compiacimento, che a quel libro spettasse la responsabilità maggiore della morte del positivismo logico. Per citare un'altra data vicinissima, basta risalire al 1958, anno in cui esce Pattern of Discovery, di Norwood Russell Hanson, senza dubbio uno dei testi fondamentali della nuova filosofia della scienza e che sarà il centro di una vasta discussione nel decennio successivo. A Cambridge, intanto, una studiosa che aveva già brillantemente superato gli anni di apprendistato, stava lavorando a uno splendido libro di storia della scienza basato in realtà su precisi assunti teorici. Forze e campi, questo è il titolo del libro, ovvero la storia del concetto di azione a distanza dal pensiero greco alla meccanica quantistica. Il lavoro di Mary Hesse, l'autrice del libro, vede la luce nel 1961 ed è seguito poco dopo dal volume che esplicita lo sfondo teorico di quello precedente, analizzando il ruolo dei modelli e delle analogie nella scienza. La convinzione profonda della Hesse è che la rivoluzione scientifica a partire dal Seicento, quando si afferma il modello cartesiano di filosofia corpuscolare, sia dovuta più, cito, a un mutamento delle strutture teoriche che non alla scoperta di nuovi fatti o alla denuncia di antichi errori. Anche in questo caso ci muoviamo entro un orizzonte decisamente innovativo che coniuga felicemente, secondo quello che diventerà uno degli imperativi categorici della filosofia della scienza negli anni Sessanta, filosofia della scienza e storia della scienza. Ma a questo punto in realtà a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta si era compiuta la grande svolta associata al nome di Thomas Kuhn, il quale nel 1957 va concluso la monografia sulla rivoluzione copernicana, un lavoro che contiene già in maniera evidente alcune delle sue linee essenziali del successivo capolavoro pubblicato nel 1962 con il titolo memorabile La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Questo elenco di date e di libri è non solo tedioso ma anche incompleto. Lo si potrebbe allungare ulteriormente, si potrebbero chiamare in causa altri protagonisti che sarebbero saliti alla ribalta nel corso degli anni Sessanta, evocare i percorsi non sempre adeguatamente considerati di figure anche note al di fuori della cerca degli specialisti come nel caso di Paul Feierabend, il teorico dell'anarchismo metodologico che conquisterà persino le pagine dei quotidiani italiani molto più avanti ma del quale pochi ricordano le origini viennesi e la partecipazione nei primissimi anni cinquanta all'attività del cosiddetto terzo circolo di Vienna animato da Victor Kraft. In ogni caso si potrebbe riassumere il filo rosso che collega i nomi, gli anni e i testi che si sono ricordati individuando tre nodi principali. Primo, nel corso degli anni cinquanta il neopositivismo il neoempirismo il positivismo logico lo empirismo logico la questione delle etichette non è banale come potrebbe apparire a prima vista sembra inarrestabile declino. Secondo la visione ricevuta l'incontro con l'ambiente americano in particolare con il pragmatismo e la semiotica di Charles Morris avevano profondamente rimescolato le carte rispetto all'età del loro viennese. La critica di Quine ai dogmi dell'impirismo e ai tentativi di liberalizzazione del principio di verificazione a quest'ultimo aspetto sarà particolarmente sensibile in Italia Giulio Preti sancivano o stavano sancendo la fine di un ambizioso programma di ricerca che era stato un passaggio obbligato per la filosofia della scienza tra le due guerre ma che ormai appariva esaurito o in via di esaurimento. Secondo punto a dare il colpo fatale alla nutrita famiglia viennese è stato Popper che ha battuto in breccia non solo il verificazionismo ma ha pure sviluppato una teoria della ricerca scientifica liberata dall'ossessione di purificarsi dall'ingerenza della metafisica. La logica della scoperta scientifica come la intende Popper è in opposizione alla visione propria dell'imperismo logico. È incentrata sulla falsificazione come criterio di demarcazione dalla scienza empirica sul fallibilismo sulla visione delle teorie scientifiche come reti gettate per catturare il mondo sulla restituzione alla filosofia dei suoi problemi fondamentali al di là dell'illusione analitica di eliminarli come equivoci verbali. Tutto questo implica appunto nella visione Popperiana la fine o la morte delle teorie coltivate a Vienna e lo sviluppo al tempo stesso di una idea nuova di critica e crescita della conoscenza come processo aperto e inesauribile della razionalità umana. Terzo e ultimo punto il terreno sul quale l'imperismo logico non può fare altro ormai che deporre le armi è il terreno della storia e dell'immagine delle teorie scientifiche. Nel 1938 Hans Reichenbach aveva formulato un dogma si potrebbe dire il terzo dogma dell'imperismo si tratta della distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Il primo contesto della scoperta riguarda gli aspetti storici sociali culturali o psicologici che sono alla base delle indagini scientifiche e dei suoi progressi. Il secondo il contesto della giustificazione è invece quello della descrizione e analisi logica della struttura delle teorie scientifiche considerate come edifici compiuti e formalizzati nella maggior ampiezza possibile. Il compito autentico del filosofo della scienza dunque è quello della ricostruzione razionale o come aveva già sostenuto Carnap dell'analisi logica della scienza. Appunto la reazione a questo dogma è stato uno dei motivi ispiratori della nuova filosofia della scienza delineatasi a partire dagli anni cinquanta e a che ha trovato nel lavoro di Kuhn il suo più influente punto di approdo. Bene, ciascuno di questi tre aspetti ha contribuito non senza molteplici intrecci e anomalie a determinare la storia della filosofia della scienza dagli inizi degli anni cinquanta in poi e di ciascuno di essi oggi possediamo un consuntivo se così si può dire molto più ricco e ancora in discussione di quanto non potesse apparire ai protagonisti o agli immediati successori. Ricostruzioni teoriche e ricostruzioni storiche hanno collaborato proficuamente in un'opera di revisione che per dirla con Hanson ha fatto sì che noi vediamo che ciò che noi vediamo non consista solo nel vedere ma anche nel modo in cui vediamo dopo molti decenni la scena originaria degli anni cinquanta ovvero la devastante critica di Quine alla distinzione tra analitico e sintetico con la connessa sconfessione dell'empirismo di Carnap si è modificata la portata definitiva di quelle critiche è stata messa in dubbio il ritratto di Carnap si è sottratto alla cornice che gli era stata ritagliata intorno e le diverse stratificazioni della costruzione logica del mondo che Quine aveva portato avanti al tribunale dell'olismo di Duhem sono via via emerse da uno sfondo dimenticato neocantismo fenomenologia psicologia della Gestalt la stessa concezione della filosofia che si può ricavare dal celebre attacco di Carnap contro Heidegger sono diventati elementi essenziali per comprendere Carnap e la Vienna di Carnap ma in verità tutta la parabola dell'imperismo logico tra Europa e Stati Uniti è stata ricostruita sotto una nuova luce quanto si diceva negli anni 50 per esempio in Italia nel libro fortunato ma ormai superatissimo di Francesco Barone del 1953 quanto si diceva allora sulla fase americana del circolo di Vienna esole dall'Europa oggi non è più attendibile in primis per quanto riguarda l'influenza del pragmatismo e al tempo stesso per la supposta tardiva liberalizzazione del principio di verificazione non vi è dubbio che con i lavori di Anson Anson nel 1958 di Kuhn nel 1962 e via via con tutti i principali esponenti della nuova filosofia della scienza la concezione delle teorie come sottodeterminate empiricamente ovvero la teoria ledness in base alla quale i fatti le componenti osservative di una teoria non sono mai neutrali ma sempre già carichi di teoria è intervenuta una cesura nei confronti dei padri fondatori dell'empirismo logico non si tratta più dichiarava nel 1958 Hanson in Pattern of Discovery di organizzare i fatti e i dati in sistemi generali di spiegazione fisica bensì di considerare come questi sistemi vengono incorporati nelle nostre osservazioni e nella nostra valutazione di fatti e di dati eppure nemmeno a Vienna la dicotomia tra linguaggio teorico e linguaggio osservativo era stata intesa nel senso di un dualismo insormontabile quando Schlick discuteva la teoria della relatività o quando Noirat immaginava l'impresa dell'enciclovedia della scienza unificata come una navigazione in mare aperto senza porti sicuri in cui rifugiarsi per riparare la nave della conoscenza le loro rispettive prospettive epistemologiche benché incommessurabili con un relativismo alla Feyerabend non erano basate semplicemente sull'empirismo di Marx bensì su un complicato marchigegno teorico messo a punto con gli strumenti di Poincaré di Duem di un Kant ampiamente corretto o delle teorie della conoscenza dei grandi fisici da Helmholtz a Hertz da Planck a Einstein l'alternativa secca tra un empirismo dogmatico nel senso di Quine e la critica di Popper al principio di verificazione nasconde in verità in una sorta di storia ideale eterna una vicenda teorica molto più intricata non per nulla del resto quando si è iniziato a rivalutare la figura più eterodossa del circolo di Vienna vale a dire Otto Neurath si si è resi conto che nelle sue pagine degli anni 30 certamente caotiche e poco rigorose si delineava già quell'olismo epistemologico che verrà poi impugnato da Quine come un vessillo nella battaglia contro i dogmi dell'impirismo ma non solo la recensione che Neurath scrisse nel 1935 della Logik der Forschung di Popper appare se riletta oggi dopo tante fortune e sfortune della nuova filosofia della scienza un testo particolarmente lungimirante denunciando lo pseudorazionalismo come lo chiamava Neurath della falsificazione e l'illusione che vi sia da un metodo di corroborazione della ricerca scientifica Neurath parlava già il linguaggio del futuro dal quale si possono qui estrapolare pochi ma illuminanti passaggi sono alcune frasi e affermazioni di Neurath che ora riporto ad esempio noi partiamo dal presupposto che possano essere posti in discussione sempre l'intera massa delle proposizioni e tutti i metodi e poi noi contestiamo che l'enciclopedia prediletta da un ricercatore possa essere scartata per via logica con l'aiuto di un metodo da delineare come un metodo generale e ancora al posto della falsificazione di una teoria deve subentrare qualcosa come una scossa o un urto erschütterung è il termine tedesco e ancora noi non conosciamo la linea che separa le teorie falsificabili da quelle non falsificabili noi cerchiamo solo di esaminare esplicitamente per quanto possibile le conferme e le scosse Popper sbaglia quando sostiene che le proposizioni protocollari sono intese come proposizioni elementari dal momento che le proposizioni base delle scienze sono agglomerati o grumi linguistici impuri Neurath usa il termine Ballungen che è di difficile traduzione dal tedesco il lavoro del ricercatore teso tra conferme e scosse dovrebbe sempre essere discusso caso per caso e soprattutto scrive Neurath sulla scorta della storia delle scienze positive un commento a queste lapidari affermazioni di Neurath potrebbe e forse dovrebbe essere molto più dettagliato si tratta in sostanza di un ottimo specimen di una visione inedita del circolo di Vienna che era del tutto inimmaginabile negli anni 50 forse è in virtù di quanto è avvenuto dopo che si può comprendere meglio quanto è avvenuto prima ma sta di fatto che allora nel secondo dopo guerra molta acqua non era ancora passata sotto i ponti e per di più acqua non pacificamente incanalata le date che si sono ricordate all'inizio e i testi che a quelle date sono associati parlano del resto in modo molto chiaro si tratta in fondo di un progressivo mutamento del paradigma o meglio dei paradigmi che avevano stabilizzato o che sembrava avessero stabilizzato un periodo normale per usare la terminologia di Kuhn nella filosofia della scienza del novecento non a caso nel 1966 Dudley Shepard in una puntuale confutazione delle posizioni di Feyerabend esordiva richiamando cito la rivolta contro il positivismo iniziata nel decennio precedente ponendo l'accento sulla rivoluzione o quantomeno sulla ribellione cui era andata incontro la filosofia della scienza di matrice neopositivistica da questo punto di vista e a dimostrazione seppure parziale di quanto le cose siano sempre più complicate quando si esce dalle visioni troppo consolidate vale forse la pena di soffermarsi almeno su un aspetto esemplare che concerne come ha suggerito Sandra Logier la vera e propria rivoluzione filosofica il vero e proprio cambiamento di paradigma in filosofia operato da Kuhn a essere in questione e qui il rapporto che Kuhn intrattiene con la storia della scienza non solo nel senso della storia della scienza da lui stesso praticata in particolare nel libro su Copernico e poi in quello su Max Planck ma pure nel senso della tradizione della storia della scienza quale si presentava nell'immediato secondo dopoguerra nell'opera eminente e mai sufficientemente studiata di Alessandro Coiré in una lunga intervista concessa nel 1995 Kuhn ricorderà il suo primo incontro alla fine degli anni 40 con Coiré e l'impulso ricevuto da Bernard Cohen a leggere gli studi galileani un libro che Kuhn amò molto sono sue parole e che gli insegnò per lui fresco della lettura di un altro grande libro la grande catena dell'essere di Lovejoy cosa significasse occuparsi di storia della scienza in effetti sul fatto che Coiré sia stato il mentore o quantomeno uno dei mentori di Kuhn non sembra si possano nutrire troppi dubbi lo stesso Kuhn metterà in evidenza come a sua volta Coiré avesse reagito con una lettera assai benevola alla pubblicazione della struttura delle rivoluzioni scientifiche rilevando come Kuhn fosse riuscito a saldare insieme dopo una lunga divisione storia interna e storia esterna della scienza Coiré morì nella primavera del 1964 quando l'eco del libro di Kuhn incominciava a diffondersi nella comunità degli storici e dei filosofi della scienza e la sua precoce scomparsa gli impedì tra l'altro di leggere il saggio che Kuhn aveva preparato per il volume in suo onore e che affrontava la funzione degli esperimenti mentali un tema chiaramente vicino alla concezione dell'indagine scientifica illuminata da Coiré in tante sue pagine illustri proprio nel libro del 1962 che lo ha reso famoso giustamente famoso Kuhn ricordava gli anni trascorsi ad Harvard e il tempo dedicato a studiare non solo gli scritti di Coiré ma anche quelli di Emile Meyerson di Hélène Metzger e di Annalise Meyer il merito di Coiré consisteva ai suoi occhi nell'aver mostrato come la scienza fosse un'attività completamente diversa da quella accreditata da una vecchia tradizione storiografica mettendo in dubbio la visione banalmente cumulativa del sapere scientifico che il positivismo aveva coltivato Coiré aveva reso possibile scriveva Kuhn una nuova immagine della scienza in un testo molto più tardo Kuhn tributerà a Coiré un omaggio ancora più significativo pur criticando la sua eccessiva sottovalutazione del movimento baconiano e della tradizione sperimentale nella genesi della scienza moderna ma fatte queste riserve Coiré aveva avuto ragione secondo Kuhn nel mettere in luce come la rivoluzione scientifica avesse trovato il suo centro non già in una serie di scoperte sperimentali bensì cito Kuhn nel nuovo modo di guardare ai vecchi fenomeni indubbiamente in questa occasione Kuhn parlava il linguaggio della nuova filosofia della scienza post-neopositivistica e non sembra il caso che alcuni anni prima anche Imre Lakatos avesse richiamato l'attenzione sul fatto che la polemica condotta nella struttura delle rivoluzioni scientifiche contro l'immagine positivistica della scienza come sviluppo per accumulazione fosse debitrice più che a Popper proprio a Coiré il quale aveva mostrato una volta per tutte che scriveva Lakatos il positivismo è una cattiva guida per la storia della scienza concentrandosi sulle rivoluzioni e sui cataclismi metafisici Kuhn aveva dunque pienamente raccolto sempre a giudizio di Lakatos il messaggio di Coiré si può aggiungere che Kuhn aveva depurato quel messaggio dalle componenti più spiccatamente filosofiche che ne avevano consentito la scrittura diffidente in generale nei confronti del retroterra per lo più neocantiano che scorgeva negli storici della scienza della prima metà del novecento da Meirson a Braunschweig da Cassirer allo stesso Coiré Kuhn sembrava inclina a raccogliere quelle eredità considerandone più i risultati che non i presupposti e invitava infatti a non dimenticare che tutti i costoro erano stati filosofi prima di convertirsi alle idee scientifiche ora che le origini di Coiré risalissero al neocantismo è in realtà un'opinione molto discutibile che da un lato sembra ignorare del tutto il rapporto di Coiré con Husser e la fenomenologia e dall'altro tace sulle affinità profonde con Meirson dal quale anche Kuhn aveva peraltro ricevuto suggestioni importanti per sua esplicita ambizione eppure Kuhn rimase sempre sensibile alla grande lezione di Coiré per illustrare la funzione del mutamento gestaltico di paradigma egli sottolineava non diversamente da Coiré quanto fosse difficile entrare in un modo di pensare più vecchio ricorreva all'esempio dell'antropologo che fatica a condividere le categorie di una cultura a lui estranea ricordava come gli scienziati molto spesso si rifiutino di ammettere che le loro scoperte sono il frutto di convinzioni teoriche incompatibili con quanto le scoperte stesse producono e infine suggeriva che la resistenza l'errore o l'ostacolo lungo il cammino della ricerca scientifica fossero il motore della scoperta attraverso la produzione di anomalie erano tutti temi che non era difficile incontrare seppure con un linguaggio diverso nelle pagine di Coiré Kuhn ne era ben consapevole e proprio per questo in un articolo del 1970 poco noto si sarebbe impegnato a tracciare un efficace profilo di Coiré e di quella che Kuhn definiva una vera e propria rivoluzione storiografica in queste pagine il riconoscimento del ruolo di Coiré nel promuovere una storia della scienza innovativa concepita essenzialmente come storia delle idee era quanto mai esplicito e si fondava innanzitutto sugli studi galileani di Coiré pubblicati nel 1939 vero punto di partenza del grande lavoro che avrebbe poi reso Coiré il modello di riferimento di un'intera generazione di storici della scienza tuttavia Kuhn non nascondeva al tempo stesso quali fossero i due grandi motivi di dissenso da Coiré in primo luogo la sua interpretazione delle origini della scienza moderna e in particolare di Galileo appariva a Kuhn pur con tutti i suoi meriti di una scrupolosa analisi dei testi unilaterale e esagerata fondandosi sull'assunto molto forte secondo cui come diceva Coiré la buona fisica si fa a priori Coiré aveva del tutto minimizzato la componente sperimentale della nuova scienza in nome del platonismo che Galilei avrebbe abbracciato anche se questo non poteva significare ed è un particolare curioso forse da ricordare che Kuhn a questo proposito citasse come esempio da non seguire da non seguire il libro su Galileo di Ludovico Gemonat anche se questo non poteva significare dicevo l'ignoranza del modo in cui la mente scientifica dello scienziato pisano si era messa al lavoro sul piano della pura costruzione concettuale in secondo luogo Kuhn sottolineava come Coiré avesse nutrito scarsa simpatia per gli storici che mirano a spiegare lo sviluppo della scienza in termini sociologici la sua storiografia detto altrimenti non aveva percorso il secondo stadio aveva privilegiato l'indagine monografica e non era mai passata dalla history of ideas a una storia della scienza inserita nel quadro della storia della società e della cultura il contesto della scoperta anche in questo caso si poteva dunque rimproverare a Coiré di aver elaborato una visione della scienza troppo unilaterale ma a tal proposito Kuhn ricordava anche come Coiré proprio negli ultimi tempi della sua vita avesse apprezzato un libro in cui quel gap tra storia della scienza e storia sociale era stato superato fornendo alla generazione più giovane le armi intellettuali per proseguire un lavoro al quale Coiré non avrebbe saputo offrire la sua leadership ma che certamente avrebbe salutato con favore per quanto Kuhn non lo nominasse esplicitamente e tantomeno ne indicasse l'autore quel libro era la struttura delle rivoluzioni scientifiche nel 1957 lo stesso anno in cui Kuhn dava alle stampi il lavoro su Copernico Coiré aveva pubblicato uno dei suoi libri più noti dal mondo chiuso all'universo infinito che raccoglieva lezioni e conferenze tenute negli anni precedenti negli Stati Uniti nelle pagine di presentazione Coiré insisteva sulla profonda rivoluzione che nel 500 e nel 600 aveva mutato radicalmente cito gli schemi stessi del nostro pensiero e di cui la scienza e la filosofia dell'età moderna erano al tempo stesso la radice e il frutto si era trattato di una rivoluzione spirituale estremamente radicale sono ancora parole di Coiré che aveva portato alla distruzione del cosmo ereditato dall'antichità classica e alla infinitizzazione dell'universo ovvero a quella geometrizzazione dello spazio su cui Coiré aveva lungamente insistito già negli studi su Galilei di quasi un ventennio prima per Coiré d'altra parte nella rivoluzione scientifica era impossibile separare gli aspetti scientifici da quelli puramente filosofici essi diceva Coiré sono interdipendenti e strettamente legati insieme quando Coiré scriveva queste pagine il termine rivoluzione scientifica era ormai in uso da tempo il processo di professionalizzazione della storia della scienza di cui proprio Kuhn avrebbe fornito più tardi un quadro esauriente era stato avviato negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti a partire dai primissimi anni 50 e si era strettamente intrecciato con le indagini sulle origini della scienza moderna alla base di questo ampio spettro di ricerche vi era un'attrezzatura filosofica che Coiré avrebbe tratteggiato tra l'altro al colloquio di Oxford nel 1961 dedicato a scientific change richiamando non in memoria anche qui della fenomenologia australiana che cito la scienza quella della nostra epoca così come quella dei greci è essenzialmente teoria ricerca della verità Coiré concepiva pertanto la scienza come dotata di una sottostruttura filosofica di un orizzonte filosofico che lungi da rappresentare un'impalcatura preliminare destinata ad essere smantellata dal progresso della conoscenza scientifica si rivelava invece come una necessità assoluta senza la quale la scienza non si reggerebbe in piedi forse un po' provocatoriamente Coiré aveva sostenuto queste tesi anche in una conferenza tenuta a Boston nel 1954 quando si era scagliato contro la visione positivistica della scienza da Bacone e Mack sino a Comte e al circolo di Vienna ma già nel 1948 nel famosissimo saggio sul mondo del pressapoco e l'universo della precisione Coiré aveva usato toni particolarmente forti denunciando cito il virus dell'epistemologia empiristica e positivistica che ha fatto e fa ancora tanta strage tra gli storici del pensiero scientifico Kuhn è evidente si era sottratto a questo virus anche grazie a Coiré l'epistemologia post-positivistica che è alla radice della struttura delle rivoluzioni scientifiche aveva dunque in Coiré ma anche in Duen e Meyerson degli illustri progenitori per quanto non sempre lo si sia rilevato adeguatamente una visione fortemente americano anglocentrica della filosofia della scienza degli anni 50 in poi rischia di occultare motivi e influenze di carattere teorico e storico di primaria importanza tanto più che essere qui in gioco non è solo la visione storica della scienza ma la nozione stessa di esperienza scientifica e del rapporto che essa intrattena con le formulazioni teoriche a conferma di quanto si diceva più sopra sembra dunque che nella storia considerata qui come un case study dello scambio intellettuale tra Kuhn e Coiré emergano aspetti di una storia più ampia e ancora più problematica e forse non si può sfuggire in questo e in altri casi simili all'assolvazione che Mary S. formulava nel 61 un anno prima della pubblicazione del libro seminale di Kuhn in una pagina in cui si legge scrivendo la storia della scienza sarà sempre presente implicita o esplicita una qualche concezione filosofica della scienza non sappiamo però sino a che punto per scrivere una storia della filosofia della scienza sia in qualche modo richiesta una qualche concezione filosofica della filosofia della scienza ma è probabile che una qualche condizione di sfondo un patrimonio condiviso di opzioni filosofiche sia pur sempre necessario o per non essere troppo impegnativi sia almeno auspicabile tornando ora e per concludere alla Torino del centro di studi metodologici e più in generale alla stagione post bellica delle grandi speranze di rinnovamento anche per la neonata filosofia della scienza italiana si può tentare di formulare una duplice constatazione non necessariamente connessa a un giudizio di valore la prima constatazione riguarda l'orizzonte ancora sostanzialmente ristretto in cui si muoveva in Italia mentre al di là delle Alpi e soprattutto al di là della Manica e dell'Oceano Atlantico cambiavano molte delle carte in gioco o addirittura mutavano le regole del gioco stesso lasciando da parte la metafora bitkinstaniana questo non significa tuttavia cadere nello scontato elogio esterofilo ma più banalmente riportare alcune vicende che hanno riguardato le nostre cronache di filosofia in un contesto più ampio un contesto peraltro che concerne tanto la scoperta quanto la giustificazione della filosofia della scienza postbellica in quella che è stata definita recentemente la sua età dell'oro la seconda constatazione ha invece a che fare con la diffusione o se si vuole l'importazione di alcuni dei temi degli autori e dei testi cui ci siamo riferiti anche qui si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole ma non per questo sarà superfluo esplicitare di cosa propriamente si tratti in Italia a partire all'incirca dagli anni 70 del 900 Kuhn Popper Meriesse Hanson Feyerabend Lakatos per citare solo i più noti sono stati ampiamente tradotti talvolta introdotti spesso discussi studiati e persino utilizzati a scopi di politica culturale e non si dice per carità di patria di politica accademica si tratta per molti versi di un aspetto positivo che insegna un punto a favore della nostra cultura filosofica e scientifica e che documenta la sua capacità di aprirsi anche se non sempre in tempo reale va detto a quanto avviene altrove tuttavia è proprio questo altrove a suscitare pensieri più notturni nella forma più brutale e anche più debole intellettualmente uno di questi pensieri potrebbe suonare come un rimpianto non abbiamo avuto né un kun né un coire nella sua forma invece più nobile e non per forza consolatoria un altro pensiero potrebbe invece presentarsi come un auspicio in fondo sono passati molti decenni non solo dai tempi di Abagnano ma anche da tempi in cui si traducevano i metri a pensè della filosofia della scienza di lingua inglese molte barriere nazionali sono state abbattute esiste una lingua franca per entrare nella comunità scientifica e la selezione per entrarvi è giustamente rigorosa ma non ha pregiudiziari l'auspicio quindi è o sarebbe di lavorare in questa direzione condividendo l'ethos fallibilista della ricerca e nutriendo al tempo stesso una solida consapevolezza storica con questo non si vuole proporre un'ecumenica morale della favola ma certo oggi vale più che mai il connubio non solo tra filosofia della scienza e storia della scienza come si diceva negli anni 50 e 60 ma anche tra filosofia della scienza e storia della filosofia della scienza grazie